Le donne, i cavalier, l'arma e gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto per la celebrazione dei 500 anni della prima edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Nei chiostri di San Domenico a Reggio Emilia, nella Cappella Ducale dei Musei di Piacenza, nel Lapidario dei Musei di Modena, presso la Sala Estense di Ferrara, nella Biblioteca Taffi di Forlì, presso il Teatro Matilde di Canossa a Cianodenza, nella Biblioteca Classenze di Ravenna, di Rod d'Orlando, in un medesmo tratto, cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amore venne in furore e matto, duam che sì saggio era stimato prima, voi sentirete fra i più degni eroi che nominar con l'audem apparecchio, ricordar quel rugger che fu di voi, dei vostri avillustri, il ceppo vecchio, l'alto valore, i chiari gesti suoi vi farò udir se voi mi date orecchio. Laudaci imprese, uno spettacolo di opificio d'arte scenica, voluto dall'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna. Laudaci imprese, vi aspettiamo, non mancate!